eccoci qua per un camera car anzi uno ski car qua camminatello Calabria provincia di Cosenza si scia siamo il 26 di marzo neve abbastanza paciocca però si scia abbastanza bene stiamo proseguendo verso l'arrivo ho circa tre quarti di percorso della pista qua condizioni di neve dove meno ventata sono migliori rispetto alla partita del trecciato che più esposta al vento neve in condizioni forse peggiori qua fa più caldo a quota più bassa ma la neve si è uniformata meglio si è più compattata mentre in alto la neve è meno compatta stiamo avvicinando verso zona arrivo oggi questa discesa in solitaria andiamo qua a chiudere la teleferica c'è già più impegnativa qua di neve fresca eccoci arrivati per prendere il nuovo segno via